salve ragazzi volevo dimostrare il nuovo sito dove si può minare cripto valuta qua ragazzi pagano appena altro ieri l'hanno aperto qua si può minare tre tipi di cripto valuta diciamo bitcoin dogecoin e litecoin anche dollari appena mi sono registrato e all'inizio ci danno 100 giga hash gratis due tre ore sono passati ho guadagnato due dogecoin ma guardate che il sito russo però lì può cambiare la lingua praticamente quello che capisce inglese mettiamo inglese però non capisco un cavolo inglese perciò ci provo spiegare inglese praticamente ci danno 100 giga hash no e poi cambiarle no diciamo schiacci su set power no per esempio no vedi qua ho messo 17 power lo posso abbassare giù abbassi giù e chiudi la la finestrina schiacci confirm e basta lo posso alzare tutto il power qua sopra su dogecoin ecco così e poi chiudi ragazzi con la registrazione gratis quelli che vogliono guadagnare di più appena che sanno minare cripto valuta altre cose anche qua per menare deve praticamente dargli un paio di satosh qua per avere la potenza più forte no alla fine così quando il sito appena iniziato e ti puoi recuperare tutti i soldi che hai perso per esempio se poi puoi mettere qua 100 euro fra una settimana e recuperi 200 euro ecco o 100 dollari non so che qua è semplice guardate qua entra c'è menu vedete c'è home partners anzi quali chiedi che amici che puoi invitare amici dicevi 5 giga hash gratis no dai tuoi amici e poi puoi comprare giga hash e poi deposit per deposit qua puoi mettere guardate 0.1 litecoin 1000 dogecoin un dollaro adesso un dollaro praticamente come un euro no anche un euro puoi mettere poi una settimana passa la puoi ricevere 2 euro o anche un giorno non so praticamente qua 10.000 satosh e qua per pagamenti puoi pagare solo con pair no pair e perfect money guardate andiamo avanti per tirare via per tirare via per tirare via qua 100.000 satosh 100.000 litecoin 1000 dogecoin e massimo un dollaro e lo stesso un dollaro per tirare via qua su pair o perfect money e uguale e poi ci sono le notizie faccio il support no ma ragazzi qua fa la pena per iniziare fa la pena che paga perché lo sapete questi qua siti ogni tanto e loro non li bloccano no per troppo ci metto link magari qualche italiano guarda non so capisce come funzionano le cose ci metto link sotto il video qui c'è la registrazione e mettete like dislike che volete scrivete scrivete il suo mio canale che così ci metto tanti siti perché in italia questi siti qua non si trovano se non li trovi su internet non li trovi mica eh eh che forza ehi ragazzi vi sicuro che paga appena faccio altro video vi faccio vedere come si tirano i soldi di qua questo è praticamente come investimenti che non so però se volete gratis no e ce la fai gratis con questi costi qua 100 giga hash e ti escono un giorno qua c'è anche calcutrice 512 coin nel mese 176 un anno 2.000 dogecoin però magari non ci passa un anno qua questo sito quasi più quindi tanti ragazzi mettono io lo so ragazzi russi quando si aprono i siti loro mettono anche 30 dollari 52 anche 100 dollari però li recuperano tra una settimana ragazzi tra una settimana recupera tutto anche di più doppio doppio ho visto anche un sito da brasilia no che lui ha l'ho mandato il link lo si è registrato e l'ha fatto il video guardate ci sono tanti ragazzi li hanno messo like che è un bravo diciamo un buon sito questo qua e paga se paga è buono per pagare se per prendere più veloci soldi dovete fare dovete pagare loro un po' per pagarli se dovete comprare questi qua giga hash qua mitica per comprarsi una una un pacchetto di sigarette si può comprare costa 5 euro no qua mandare il 5 euro puoi prendere così 5 dollari qua prendi 500 giga hash metà metà che puoi recuperare di qua sono 25 dollari 2 dollari e 50 2 dollari e 50 scusate mettiamo 50 euro no 5.000 vabbè ragazzi questa è una cosa fantastica perciò andate subito fate una bella registrata qua sotto il link eh eh sotto il video scusate sotto il video vi auguri tanti soldini e e chi non sa qual è il mio canale il mio canale si può guadagnare anche lì gratis anche qual è gratis anche lì gratis qual potete guadagnare gratis però fra un mese a due cosa si può garantisco per forza vabbè vi saluto tutti vi auguro buona giornata saluto italia capital mosca e state mi bene ciao ciao buona giornata paccà paccà